Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti anche in A12 ma a causa di lavori tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. 3 km di coda invece ancora a causa di lavori tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Da segnalare anche code in uscita a La Strassigna provenendo da Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze per traffico intenso. Cantieri di Firenze in Viale Segni fino al 5 novembre di vieto di transito tra Via Natan Cossuto e Viale Gramsci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!